Il primo appuntamento della tredicesima edizione. Riparte la rassegna culturale come alla corte di Federico II, ovvero parlando e riparlando di scienza. Otto incontri che termineranno a giugno del prossimo anno e che vedranno interfacciarsi con il pubblico federiciano, studiosi di spicco degli studi accademici italiani. Ascoltiamo il rettore dell'Università degli Studi di Napoli, Federico II, Gaetano Manfredi. È un modo per far vivere non solo la nostra comunità accademica ma tutta la città quello che è il valore, le competenze, i saperi che nascono nel nostro Ateneo e che sono il grande motore di sviluppo e di crescita culturale della nostra Napoli, della nostra regione e del nostro paese. Espettato a Cesare De Sieta, storico di architettura della Federico II, l'onore di aprire la rassegna con un intervento, di una vera e propria lezione magistralis, incentrata sul suo ultimo lavoro, l'Italia nello specchio del Grand Tour. Il mio ultimo libro si chiama l'Italia nello specchio del Grand Tour ed è la storia di un'avventura intellettuale che ha dato grande rilievo al nostro paese, che è stato per almeno tre secoli il baricentro della civiltà europea. Alla Corte Federiciana nei prossimi mesi sono attesi Francesco Corcione per condurre gli spettatori in un viaggio nella fantascienza, Giuseppe Mussardo, Nicoletta Marraschio, Salvatore Cozzolino, Luigi Frati e Carlo Sbordone. A concludere gli incontri a giugno sarà Matteo Palumbo con un viaggio dal Decameron al Giardino dei Finzi Contini.